www.marizopoli.it, il Centro Studi Confindustria ha lanciato un nuovo indice dell'economia italiana, un indice rivoluzionario che si chiama RTT, Roma-Torino-Torino, Real Time Turnover, che è un progetto che serve a offrire una visione immediata e dettagliata dell'economia italiana. L'indice è alimentato dal flusso delle fatture elettroniche consentendo agli economisti di tracciare l'andamento economico italiano settore per settore, territorio per territorio. Quindi al suo debutto l'indice RTT ha registrato una crescita complessiva del più 0,8% a dicembre 2023 dell'economia italiana. Tale incremento è stato trainato soprattutto dai settori servizi, più 2,7% e dalle costruzioni, mentre l'industria ha mostrato una flessione del 2,8%. Questo è il nuovo indice RTT che fotografa puntualmente dai dati delle fatture elettroniche l'andamento dell'economia italiana. Una buona lettura e alla prossima!